Domani mercoledì 19 giugno suonerà la prima campanella sull'esame di Stato 2024, più di 3.000 maturandi della provincia di Pesaro Urbino saranno sui banchi di questo esame di maturità. Tra questi c'è anche il volto noto di Rossini Tivo insieme a Canestro Giovanni Zidda, 18 anni. Giovanni, sensazioni della vigilia? Sicuramente un po' d'ansia c'è, una prima prova il mercoledì e una seconda il giovedì, una dopo l'altra e poi dal 24 si partirà con l'orale. Liceo Mamiani, per Giovanni, sul tema si va a intuito, ci si prepara prima? Sicuramente per la prima prova si parla di tre tracce differenti, la traccia all'analisi del testo di italiano, quindi possiamo dire i soliti papabili come Ungaretti, Svevo, Cuglielmo Marconi, Pirandello oppure sulla traccia B il testo storico, culturale è un po' più argomentativo oppure si può parlare della traccia C, quella molto nota, che è quella sull'attualità ovviamente si parla attualmente di intelligenza artificiale, si parla di sport con le Olimpiadi, i campionati di calcio europei e gli europei di atletica. Sicuramente però ci potrebbe essere anche, possiamo dire, qualsiasi cosa che non ci si può aspettare, ci si può aspettare di tutto. Naturalmente è l'inizio di un percorso di passaggio, quello che è l'esame di Stato che poi porta a quella che possiamo definire la vita adulta, la vita del lavoro, una vita che Giovanni in qualche modo ha già intrapreso anche un po' in parte qui da noi a Rossini TV. Dove ti vedi Giovanni dal prossimo settembre? Sicuramente si chiude un capitolo importante che è durato cinque anni, i professori ci hanno molto aiutato e istruito anche negli ultimi settimane e sicuramente speriamo che vada per il meglio per Bologna e per Scienza della Comunicazione. Dunque, università nel futuro da settembre, ottobre in poi, invece per quello che riguarda il presente stretto, che notte prima degli esami sarà? Beh, sicuramente c'era molta ansia, saremo con tutta la classe, ci riuniremo e sicuramente staremo insieme fino alla fine.